eccoci tornati per una nuova funzionalità appena arrivata in canva cioè la possibilità di sfumare gli audio che utilizziamo all'interno delle nostre presentazioni video e qualsiasi altro tipo di progetto vi ricordo che tutti i video che escono sul mio canale li raccolgo tutti in un'unica playlist che trovate qui linkata in alto a destra ed anche nella descrizione del video qui sotto che mano mano viene aggiornata quindi salvatevela pure nella vostra app di youtube per non perdervi anche i video che usciranno in futuro in ogni caso per non perdere proprio niente ci sono sempre i social su cui seguirmi prof giordano silvia sia su facebook che su instagram e ma sicuramente il metodo che conoscete già migliore per non perdere niente è iscrivervi al mio canale in modo da ricevere una mail oppure una notifica nella app di youtube appena usciranno nuovi video agli interessati lascio anche qui in alto il mio link alla pagina wiki scuola in questa pagina ci sono diversi corsi di didattica digitale acquistabili con la carta docente riconosciuti dal miur e alcuni di essi contengono già alcune funzionalità con canva sicuramente usciranno nuovi corsi a riguardo quindi tenete d'occhio la pagina ma andiamo avanti avete già imparato con me a inserire un audio diverso per ogni diapositiva all'interno di canva e se non l'avete ancora imparato beh qui c'è sempre il link utilizzabile in alto a destra quindi andate a studiarvi il tutorial e poi tornate qui vi aspetto per insegnarvi direttamente dal mio computer ci collegheremo sulla mia presentazione di canva a sfumare i file audio una volta che li avrete inseriti all'interno del vostro progetto eccoci all'interno della mia presentazione che è proprio quella della copertina di questo video in questa presentazione io ho messo l'animazione che come vedete ecco ho preimpostato un tempo di 5 secondi per la mia copertina e quindi ora vorrei aggiungere un audio solamente su questa diapositiva e anche sfumandolo proprio secondo i tempi dell'animazione abbiamo già imparato in precedenza che per associare un audio solamente a una diapositiva devo passare temporaneamente per il ridimensionamento a video quindi riaggiornando la pagina mi trovo nel classico video editor di canva vado a selezionare un file audio o da quelli che ho caricato qui con caricamenti selezionando la cartelletta audio oppure scegliendo uno di quelli già predisposti in canva ecco per esempio questo e come vedete mi compare qui sotto la barra dell'audio che io vado a portare della lunghezza esatta della mia stessa prima diapositiva eccola qui in modo che si interrompa a fine dell'animazione fatta così si interrompe in maniera brusca e non è quello che voglio quindi io vado a cliccare sulla mia traccia audio e poi o col menu tre pallini qui vicino vado a selezionare effetti audio oppure selezione effetti audio come vedete anche da qua sopra è uguale una volta che io ho cliccato su effetti audio scopro che posso aumentare gradualmente il volume o anche ridurlo gradualmente quindi cosa vado a fare con la mio mouse vado ad aumentare il tempo in cui il volume viene ridotto come vedete qui sotto compare questa barretta che se la tenete d'occhio ora mentre io muovo diventa più scoscesa o meno in modo da farci vedere l'entità della riduzione del volume ora io la tengo al massimo in modo che vi faccia vedere qual è l'effetto effetto che posso anche cambiare come tempistiche ora ve lo mostro questo è l'effetto che opera impostato e l'audio si è da solo regolato sfumato come ti avevo chiesto altrimenti posso anche impostare qui un tempo diverso potrei mettere che riduce per più secondi di quelli che sono indicati o meno come vedete però ha un massimo di lunghezza di riduzione del volume quindi mi prende per esempio su una traccia di cinque secondi non mi fa superare la metà traccia quindi io non posso aumentare o diminuire il volume per più di 2,5 secondi quindi impostabile manualmente da qui oppure con la nostra barretta per un massimo del 50 per cento della traccia allo stesso modo se volessi fare un aumento del volume in entrata eccolo qui ve lo faccio sentire otterrei un bel effetto in entrata che ora magari qui non si sentiva tanto perché il tempo è breve quindi non è super apprezzabile il cambio di volume ma che comunque dà un ottimo effetto in chiusura in questa maniera ho ottenuto un file audio associato alla mia copertina se lo voglio utilizzare come video rimango qui nel formato video altrimenti ridimensiono di nuovo lo riporto a presentazione perché magari è così che io lo utilizzo lo ricarico per visualizzare ecco il ridimensionamento ed eccoci qui abbiamo una traccia all'interno happy family che se la clicco la vedete è breve e rimane associata solo alla prima diapositiva con i suoi effetti audio di entrata e di uscita